Buonasera a tutti e bentornati al TG di AC Milan Inside. Sono ripresi gli allenamenti questa mattina a Milanello, tranne i rossoneri convocati nelle rispettive nazionali. Anche Ben Nasser è uno dei ragazzi che è stato convocato dalla sua nazionale, ovvero l'Algeria. Come avevo già anticipato ieri, oggi c'è stato l'incontro presso casa Milan con Abraham. Tra le tante domande dei giornalisti, lui si è riputato molto soddisfatto di essere al Milan e di reputare la squadra una squadra eccellente e che ora sta molto meglio e sta recuperando dalla lesione. Anche Furlani rappresenta la presentazione di Abraham e ha affermato di essere soddisfatto del mercato e che tutta quanta la squadra è con Fonseca, nonostante questi momenti no di inizio campionato. Oltre a Mike, Theo e Fufanac che sono stati convocati nella nazionale francese, sono stati convocati anche Pavlovich e Jovic. Queste sono tutte le notizie di oggi, come al solito vi invito a venire a seguire su tutti i nostri social. Grazie a tutti.